Siamo qui con Valentino Cottini, islamologo cristiano che dialogherà con Camella Iachi sul tema del dialogo o della fraternità, come diceva Camella, tra islam e cristianesimo. Sì, tra islam e cristianesimo, o meglio tra cristiani e musulmani, perché dialogare si può non tanto e non bisogna farlo solo sulle teorie che pure ci sono e che pure vanno considerate, ma si tratta soprattutto di incontrarsi, di incontrarsi con un fratello o con i fratelli. Incontrarsi con i fratelli significa riconoscere ciò che è comune e riconoscere anche che siamo diversi. E in questo modo, accettando che siamo diversi, ma riconoscendo anche ciò che abbiamo in comune, le radici comuni, allora è possibile che un dialogo sia davvero onesto, sincero e che possa anche funzionare nel futuro. Grazie Buon lavoro Alla voi Buon lavoro Buon lavoro Buon lavoro Buon lavoro